ci troviamo nella nostra bella toscana in campagna ai piedi di pecioli e vicini a terricciola la città del vino nonché all'aiatico la città di andrea bocelli e vi presentiamo un rustico da ristrutturare veramente veramente interessante con tanto terreno e una posizione impeccabile andiamo a scoprirlo insieme un'altra bella una casa in campagna con tante qualità il sogno di molte famiglie nel cuore della toscana